Ciao a tutti, ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno. Come vi sentite? Siete elettrizzati? Siete super stressati? Magari tutte e due e lo capisco benissimo. Avete già fatto i propositi per il nuovo anno? Li facciamo un po' tutti, ma posso dirlo? Io ho smesso da un po' di fare propositi. Hai ragione certo, ma quando è l'ultima volta che hai rispettato un proposito di capodanno? La maggior parte delle volte ce ne siamo già dimenticati per l'epifania, che tutte le feste si porta via e anche i propositi si porta via. Io faccio qualcos'altro, seguo un rituale che mi aiuta ad avere chiarezza e oggi voglio condividerlo con voi così potete provarlo e prepararvi al nuovo anno insieme a me. È semplice, sono tre piccole domande che servono a valorizzare quello che avete fatto, a usare di più quello che avete imparato e a lasciare andare via quello che vi ha bloccato. È una specie di bilancio di fine anno, ci sono molti bilanci, alcuni lunghi, complessi, articolati. Questo è semplice e veloce, ma potentissimo. Preparate carta e penna. Siete pronti? Ecco la prima domanda. Che cosa ho fatto quest'anno? Che cosa ho creato? Che esperienza ho vissuto di cui sono soddisfatto e orgoglioso? Questa domanda è importante. Spesso facciamo troppe cose alla volta e andiamo così veloci che non ci diamo il tempo di fermarci ad apprezzare i risultati. Anzi, non vediamo nemmeno quanti progressi abbiamo fatto. Io sono la prima che si concede con difficoltà questo tempo e allora ho pensato quest'anno di farlo con voi per darci una spinta insieme. Pensate alle cose che avete realizzato quest'anno, grandi o piccole che siano. Cosa avete creato? Che esperienze avete vissuto? Cosa avete fatto di cui essere fieri? Pensateci bene e scrivetele una per una, anche in sintesi. Ma Simona, guarda che io non ho realizzato niente quest'anno, non ho niente di cui andare fiera. A volte siamo ipercritici con noi stessi, pensiamo di non avere fatto molto, di non avere realizzato niente, di non essere stati abbastanza bravi e si inizia il nuovo anno con una sensazione di sconfitta e non va bene. Ma no, non c'è niente per cui io mi possa sentire orgogliosa di me stessa, non ho fatto niente di buono. Ma non è così, non ci credo, non è vero. Ascoltami, se ci pensi bene, sicuramente hai creato progetti anche per la famiglia, hai visto persone, hai fatto viaggi, organizzato cene, incontrato gente, hai fatto cose importanti e anche dei passi avanti. Pensaci e mi darai ragione. Non è necessario che sia qualcosa di spettacolare, vanno bene anche le piccole cose che contengono sentimenti di qualità che hai voluto compiere per essere coerente con te stesso. Scrivete questo elenco con cura e libererete nel cuore un senso di compiutezza che chiude l'anno e un buon motivo per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. E in più qualcosa di cui parlare durante le vacanze, così quando qualcuno che non vedete da tempo vi chiederà come è andata quest'anno, avrete subito qualcosa di interessante da dire con entusiasmo. E non è poco. Passiamo alla domanda numero 2. Quali errori ho commesso quest'anno e cosa mi hanno insegnato? Quali lezioni ho imparato e come posso metterle in pratica, come posso farle fruttare? Io mi faccio questa domanda a dicembre perché alla fine dell'anno riesco a essere più obiettiva su cosa è andato storto. Se lo sbaglio è troppo vicino nel tempo, è facile abbattersi e difficile capire subito la lezione. Invece a distanza è più facile avere una visione distaccata e accettare che ogni difficoltà viene per dare un'opportunità di crescita. Quindi adesso ripensate al vostro anno e chiedetevi cosa non è andato bene, che errori ho fatto, che lezioni ho imparato, come posso usare queste lezioni per fare meglio la prossima volta, come posso diventare una persona più efficace e anche più saggia. Questo esercizio è prezioso, pochi lo fanno, ma vi assicuro che se lo farete inizierete il nuovo anno arricchiti e non indeboliti dai vostri stessi errori. Bene, adesso la domanda numero 3. Cosa siamo disposti a lasciare andare? Che domandona! Detto tra noi, io sono una persona che si libera facilmente delle cose che non servono, mi piace eliminare il superfluo, anche eliminare il disordine. Penso che mettere ordine sia una magia che cambia la vita, come scrive Marie Kondo per chi conosce il suo libro. Quindi, cari amici, è ora di lasciare andare le vecchie scorie che vi tengono ancorati a terra. Fate un bell'idrocolon per eliminare tutte le buone intenzioni del passato. Sì, ho detto proprio idrocolon perché sono un'esperta di salute naturale e ho detto buone intenzioni. Cosa vuol dire? Fate una lista di tutti i propositi, progetti, obiettivi, tutti gli elenchi che da anni sono parcheggiati nell'area delle buone intenzioni e non avete mai messo in pratica. Ormai non appartengono più alla persona che siete diventati. Fate una lista e liberatevene, viaggerete più sgonfi e leggeri. E dopo la lista dei propositi esteriori ci sono i pesi interiori di cui liberarsi e dentro spesso abbiamo più tensioni che fuori. C'è tanto da buttare via. Chiedetevi quali paure, quali ferite siete disposti a lasciare andare, a quale senso di colpa o risentimento siete attaccati. State scrivendo questo elenco? Fatelo, tirate fuori tutto e mettetelo lì su quel foglio. Forza dai, siamo tutti intasati di vecchie emozioni. Facciamo un bel clistere emozionale. Iniziamo l'anno più puliti dalle scorie interiori. Chiedetevi cosa vi dite da soli per autobloccarvi. Sono troppo avanti con gli anni? Sto invecchiando? Sono troppo giovane? Non sto bene? Non sono abbastanza veloce? Non riesco ad ottenere risultati? Sono sfortunato? Vi faccio una domanda. Chi potreste essere se lasciaste andare le vostre credenze limitanti? Solo quando lasciamo andare qualcosa ci accorgiamo di quanto ci bloccava e iniziamo a muoverci in avanti. Come dice Rumi, il noto poeta Sufi, sii come un albero e lascia cadere le foglie morte. Bene, ora avete tutto. Tre semplici domande su cui riflettere, dei bei concetti da scrivere e un fantastico anno da cominciare nel migliore dei modi, insieme a Simona Vignali, naturalmente. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Molti di noi desiderano chiarezza per il nuovo anno. Condividete questo video via mail e sui vostri social, così le vostre persone speciali potranno seguire questa routine e avere un 2017 migliore. E poi scrivetemi nei commenti com'è andata, come vi siete sentiti e se vi fa piacere qualcuna delle vostre risposte alle tre domande. Se volete conoscere altre risorse utili per il vostro benessere interiore andate sul mio sito all'indirizzo nell'info box qui sotto e iscrivetevi al canale, naturalmente. Basta un clic. Ciao!